14 e 12 anni di reclusione sono le condanne chieste dalla procura distrettuale antimafia di Palermo nei confronti dei palmesi Ignazio e Nicola Ribisi, zio e nipote, rispettivamente di 52 e 29 anni, arrestati il 18 settembre scorso dalla squadra mobile di Agrigento. 14 anni per Ignazio e 12 anni per Nicola sono le richieste del pubblico ministero Fernando Asaro. I due imbutati, difesi degli avvocati Daniela Posante e Salvatore Russello, hanno chiesto e ottenuto di essere giudicati con il rito abbreviato dinanzi al giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Palermo presieduto da Giuseppe Sgadari. Zio e nipote sono accusati di associazione per delinquere di stampo mafioso. Secondo la direzione distrettuale antimafia, Ignazio e Nicola Ribisi stavano cercando di riorganizzare la famiglia mafiosa di Palma di Montechiaro. Ad accusare i due ci sono anche i collaboratori di giustizia, Maurizio Digati e Giuseppe Sardino. Le arrinche dei difensori sono in programma il prossimo 29 aprile. Grazie.